Signore e signori, buongiorno! Eccoci al condominio Beta, appartamento tipo C, con due camere da letto e un bagno. Qui siamo a Lignano Riviera, a 250 metri dalla spiaggia. Soggiorno pranzo con agro-vottura. Sfrigo piccolino e gaccia a intrusione. La zona pranzo con un attimo. Camera da letto numero uno, matrimoniale, conferrata. Camera da letto numero uno, matrimoniale, conferrata. Camera da letto numero due, a due letti singoli, oppure un matrimoniale. Camera da letto numero uno, matrimoniale. Qui nel corridoio abbiamo un bel guadaroba, molto attio, con anche una ciascuna. bagno con doccia, paliscendi e finestra. I vantaggi del condominio Beta sono che è stato ristrutturato completamente nel 2019, tutti i nuovi nuovi, ha la wifi, il giardino comune e il parcheggio condominiale non numerato. Da Lignano Riviera, Alessandro Lachin per l'Agenzia Lignano. Ciao! 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 Ciao!